eravamo rimasti scusate nell'ultimo video eravamo un po' addormentati non so se si è capito dunque grande grande tornerà la scrivania batterà la mano sul manoscritto ormai sguercito usurato dallo sguardo amoroso di almeno quattro lettori svolgere manoscritti compito dalla signora grazia e fisserà la ps con l'aria perplessa che cosa ne facciamo che cosa ne facciamo chiederà dei governati e garamond dirà che sul valore dell'opera non si discute neppure un secondo ma è chiaro che è una cosa in anticipo sui tempi e conto a copia non si andrà al di là delle 2.000 2.500 al massimo per le gubernatis 2.000 copie sarebbero abbastanza per coprire tutte le persone che conosce la ps non pensa in termini planetari ovvero il suo pianeta è fatto di volti non noti di compagni di scuola di direttore di banca di colleghi insegnanti della stessa scuola media di colonnelli in pensione tutte persone che la ps vuole che entrino nel suo mondo poetico anche coloro che non vorrebbero come il salumaio il prefetto di fronte al rischio di caramondo si tira indietro dopo che tutti in casa in paese in ufficio sanno che ha presentato il manoscritto a un grande editore di milano dei gubernatis fare i suoi conti potrebbe estinguere il libretto al portatore chiedere la cessione del quinto a fare un mutuo vendere quei pochi botti parigi val bene una messa offre timidamente di partecipare alle spese garamondo si mostra nella turbata la manuzia non usa e poi via a fare fatto mi ha convinto in fondo anche proust e joyson hanno dovuto appiegarsi alla dura necessità i costi sono attorti e noi ne stampiamo per ora duemila copie ma il contratto sarà per un massimo di diecimila calcoli che 200 copie vengono all'ai omaggio per inviarle a chi vuole 200 sono di invio stampa perché vogliamo fare un battaggio come fosse l'angelica dei donald e ne distribuiamo 1600 e su questo lo capisce niente diritti per lei ma se libro va lo restampiamo e a quel punto lei si prende il 12 per cento aveva poi visto il contratto tipo che da gubernatis ormai in pieno peripo e poetico avrebbe firmato senza neppure leggere mentre l'amministratore si sarebbe lamentato che il signor garamond aveva tenuto alle spese troppo basse dieci pagine di clausole in corpo 8 traduzioni estere diritti sussidiani adattamenti per il teatro riduzioni radiofoniche cinematografiche edizione in braille per i cecchi cessione del riassunto al redard digest garanzia in caso di processo per difamazione diritto dell'autore di approvare mutamenti da redazionale competenza del foro di milano in caso di partenza la piazza doveva giungere esatto con l'occhio ormai perso in ogni insenne di gloria alle clausole delettere dove si dice che 10.000 è la tiratura massima ma non si parla di tiratura minima che la somma da pagare non è ancorata la tiratura di cui si è parlato solo a voce e soprattutto che entro un anno l'editore ha il diritto di mandare al macero le copie invendute a meno che l'autore non le rilevi a metà prezzo di copertina firma il lancio sarebbe stato satrapico comunicato stampa di 10 cartella con biografia e saggio critico nessun pudore tanto nelle redazioni dei giornali sarebbe stato cestinato stampa effettiva mille copie in fagli stesi di cui sono 35 scusate 350 rilegati 200 all'autore una cinquantina a libreria secondaria e consorziate 50 alla giubbista di provincia una trentina per scaramanze giornali nel caso gli avanzassero una riga tra i libri ricevuti che palle ecco la capra avrebbero mandato indone agli ospedali o alle carceri e si capisce perché i primi non guariscano e le seconde non redimano nell'estate sarebbe arrivato il premio petrozzellis della gattina creatura di gara mondo costo totale vita alloggio per la giuria due giorni e nike di samotraccio in vermiglione telegrami di felicitazione dei autori manuzzi sarà ben fino arrivato il momento della verità un anno e mezzo dopo il gara mondo ne avrebbe scritto amico mio l'avevo previsto lei è apparso con 50 anni di anticipo recensioni l'ho vista a palate premi consensi dalla critica cavassa andyre sa va sandyre ma capi vendute pochino il pubblico non è pronto siamo costretti a sgomberare il magazzino a termine di contratto accluso o al macero online acquista a metà prezzo di copertina come suo privilegio dei governati si impazzisce dal dolore parecchiano con solo la gente non ti capisce certo che se eri dei loro se mandavi la bussarella acquistare ti avevano necessità anche sul corriere e tutta la mafia bisogna resistere delle coppie omaggio ne sono restate solo 5 ci sono ancora tante persone importanti da lo completare non pensano mettere che la tua opera vado al macero a far carta igienica vediamo quanto si può raccimolare sono soldi ben spesi si vive una volta solo diciamo che possiamo acquistare 500 copie e per il resto sì che transit gloria mondi alla mannuzza sono rimaste 650 copie in fogli stesi signor gara mondanelli lega 500 e l'invia contrassegno consuntivo l'autore ha pagato generosamente i costi di produzione di 2.000 copie la mannuzza ne ha stampato e millenari legati 850 di cui 500 sono state pagate una seconda volta una cinquantina di autori all'anno la mannuzza chiude sempre infarto attiva e senza animarsi distribuisce felicità